potrebbe essere finito qui il rimbalzo dei mercati azionari dopo le pesanti discese delle scorse settimane e nel video di ieri sullo stocks 600 dicevamo che appunto sopra 510 avremmo avuto un segnale tecnicamente molto forte con la possibilità di andare a vedere i massimi però 510 avevamo detto ieri che era una resistenza molto forte l'indice l'ha sentita stamattina apertura positiva ha provato a testarla ma non è riuscito siamo venuti indietro e su scala 30 minuti questa è la scala 30 minuti ecco il 510 è qui sopra e abbiamo rotto la v stop stiamo andando di nuovo a ritestare il vecchio gap quel gap che dicevamo del 16 aprile che ieri era stato passato con nonchalance e adesso dovrebbe fare da supporto però qui diciamo la rottura di questa v stop fatta in questo modo depone forse a favore per una fase più prolungata di discesa e forse una ripresa del movimento precedente quello per intendersi iniziato il 2 di aprile cosa mi fa propendere per questa seconda ipotesi il fatto che i rendimenti si sono incattiviti proprio perché i mercati azionari continuano a rimanere molto orientati a rigonfiare le bolle al primo diciamo alla ogni minima occasione che può essere ritenuta bullish la trimestrale di questo di quell'altro la notizia appunto che le banche centrali potrebbero fra poco ridurre il quantitative tightening insomma qualsiasi occasione buona per riportarsi su livelli di bolla e quindi i rendimenti come abbiamo detto più volte non abbiamo certezza di questa intenzione da parte di chi influenza i rendimenti però la coincidenza notiamo la coincidenza cioè il fatto che appunto da quando i mercati azionari sono scappati di mano tra virgolette dopo che a dicembre avevano cominciato a correre appresso alle dichiarazioni delle banche centrali che avrebbero tagliato i tassi nel 2024 e quindi i rendimenti hanno cominciato lentamente a riportarsi verso l'alto oggi è stata la volta del decennale tedesco che ha strappato con un più 3 23 per cento rompendo diversi massimi precedenti in area 2 e 5 e portandosi praticamente a un soffio dal target successivo in area 2 e 65 un'area di resistenza molto molto importante che probabilmente verrà attestata nelle prossimi giorni o nelle prossime ore comunque in coincidenza con l'accelerazione del dei rendimenti del decennale tedesco e torniamo adesso un attimo al grafico dello stocks 600 ecco gli indici europei si sono girati verso il basso chiaramente questa situazione di tassi elevati in primis la pagano gli indici delle mid cap e small cap questo il dax del mid cap che come vedete registra un bearish engulfing andando a annullare la candela precedente che stava tentando di rompere a rialzo la media 200 una media 200 discendente come vedete un grafico completamente diverso rispetto a quello non solo del dax ma anche dello stocks 50 di tutti gli indici principali questo è un discorso che abbiamo fatto più volte gli indici composti principalmente le aziende a grande capitalizzazione registrano questo andamento surreale di mercati fortemente orientati al rialzo oppure in presenza di tassi di interesse molto elevati gli stessi tassi di interesse che fino a pochi mesi fa avevano fatto registrare quotazioni dell'azionario molto più basse adesso sembra che i tassi non continuo più i rendimenti non continuo più e invece come vediamo poi gli indici meno manipolati tra virgolette appunto come l'MDAX o come il nostro star che abbiamo visto più volte sono lì che languono piatti su una media 200 discendente e sentono molto i rialzi dei rendimenti in america l'andamento è riflessivo il decennale americano si è andato verso l'alto più 1 per cento però non ha avuto lo strappo che si è registrato con il decennale tedesco comunque anche l'SMP 500 sembra aver trovato una resistenza in area 507 vediamo il 30 minuti anche sul 30 minuti dell'SMP 500 vediamo bucare decisamente l'AV stop quindi comunque mancano ancora diverse ore alla chiusura del mercato americano quindi vedremo poi la fine della giornata la trimestrale di Tesla è stata pessima se tutto in contrazione fatturati utili Tesla si sta avviando a diventare una delle tante case automobilistiche che produce auto elettriche ormai ai sogni non ci crede quasi più nessuno macchine che volano che si autoguidano che si fanno questo e quell'altro la realtà è che abbiamo un trend discendente da 300 siamo arrivati a 150 qualcuno dice che se Tesla valesse come le altre case automobilistiche che dello stesso settore dovrebbe più o meno quotare intorno ai 20 dollari comunque per il momento l'AIP su questo tipo di titoli è ancora elevato 160 è ancora un valore altissimo nonostante dal punto di vista dei multipli soprattutto se andiamo a vedere quello che è l'andamento appunto economico della società e il il fatto che oggi sia più 10 8 per cento lascia il tempo che trova perché evidentemente questi erano dati ampiamente telefonati e poi come telefonati nel senso attesi poi come spesso avviene c'è il famoso detto buy the rumor sell the news in questo è stato il contrario evidentemente c'era parecchio scoperto sell the rumor buy the news quindi ricoperture più 10 per cento ma come vedete dal punto di vista tecnico siamo perfettamente incanalati in un canale di regressione dal luglio 2023 quindi quasi un anno e il salto di oggi semplicemente ci riporta a metà del canale quindi in prossimità della vstop con una candeletta che per il momento è una shooting quindi quadro tecnico invariato per quanto riguarda gli earning oggi tocca a meta però dopo la chiusura per il momento registra un meno 2 per cento con una candelone pericoloso perché sta andando a testare dei supporti molto importanti in area 480 diciamo che tutta la pattuglia dei titoli dell'intelligenza artificiale vediamo amazon e su livelli di supporto importanti questo è un altro fattore questo sembrerebbe un flag di continuazione no di un movimento di correzione che ci starebbe tutto per questi titoli e quindi questo diciamo avvalora quella che è l'ipotesi che potrebbe essere finito qui il rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime 48 ore configurazione simile per asml che avevamo guardato un po di tempo fa e qui c'era un testa e spalle rottura della neckline con uscita gap questo pullback è andato a rivedere la vstop che ancora non ha cambiato colore attendiamo il cambio di colore non c'è stato però diciamo sembrerebbe anche questo un flag di continuazione qui il target era area 800 per asml anche netflix conferma il gap di fuga del 19 aprile rottura di vstop rottura di un livello di supporto importante stacca molto bene tutta un'area di distribuzione e la candela di oggi sembrerebbe appunto la prosecuzione verso la chiusura del gap la chiusura del gap del 24 gennaio quindi target 500 target tecnico probabilità non certezza attenzione verso l'alto se dovessimo invece andare sopra 5 95 questo quadro tecnico verrebbe cambiato torniamo alle materie prime anzi andiamo alle materie prime visto che finora abbiamo parlato principalmente di equity il gas giusto perché ieri diciamo che c'era possibilità appunto dell'uscita da questo cap and handle eccolo qua proprio ieri avevo appena finito di dire attenzione eventuali rientri sotto 2 e in questo momento quotiamo 2 0 4 il gas americano meno 4 e 57 per cento candeleone nero quindi attenzione perché potrebbe esserci l'annullamento del break di ieri e di due giorni fa non ci sono novità per loro e per l'argento che nonostante il rialzo dei rendimenti continuano a dare prova di forza normalmente con rialzo dei rendimenti oro e argento normalmente hanno questa correlazione con i rendimenti correlazione negativa cioè se i rendimenti salgono loro scendono invece siamo molto stabili molto fermi in area 2 e 3 per loro una richiesta riguarda stellantis da un punto di vista tecnico questo non è un bel top è un top non proprio a torre vediamo stringiamo un attimo sì quasi a torri top a torre sono quelli che hanno un movimento molto ripido sia a destra che a sinistra si vede meglio appunto comprimendo un attimo il grafico perché la scala qui viene un po' alterata anche dalla presenza sotto della dell'indicatore quindi questo tipo di top con diciamo una cuspide sono abbastanza rari ma dal punto di vista tecnico sono abbastanza significativi cioè indicano che il trend precedente era relativamente debole soprattutto nella parte finale che è stata più speculativa che altro e ora si sta rapidamente tornando verso i supporti in area 22 da un punto di vista candlestick abbiamo visto questo gap di continuazione il 22 aprile un rimbalzo che è andato appena a chiuderlo però come vedete il rimbalzo di questi giorni molto debole quindi salvo recuperi di area 24 diciamo che qui il trend appunto prevede prosegue e prevede per il momento il primo test in area 22 con una prosecuzione poi in caso di dovesse cedere 22 un test da media 200 ci starebbe sono livelli che stellantis non vede da circa un anno andiamo a vedere un attimo indietro media 200 sì l'ultima gli ultimi test risalgono a maggio 2023 quindi siamo quasi a un anno esatto diamo un'occhiata la heat map del nasdaq 100 come già detto rimancano ancora parecchie ore alla chiusura comunque a colpo qui d'occhio si vede il quanto abbiamo visto prima sui grafici e cioè che ripreso il movimento correttivo dei titoli più speculativi tutti quelli legati all'intelligenza artificiale amazon è uno dei maggiori provider di servizi di intelligenza artificiale attraverso i suoi servizi cloud nvidia per l'hardware meta stesso discorso di amazon come vedete tutti ribassi importanti asml che ieri era salita tanto sulla scia di sap meno 2 per cento e quindi questi titoli da soli netflix meno 4 abbiamo visto prima il grafico questi titoli da soli sono in grado come abbiamo detto più volte di influenzare l'indice nel bene ma poi come si vede durante le discese anche nelle fasi negative va bene direi per stasera è tutto solo un breve aggiornamento non perdetevi i prossimi video perché continueremo ad avere a parte le trimestrali venerdì abbiamo dati economici importanti con i dati sull'inflazione quelli che segue la federal reserve cioè il pc e pc e va bene grazie a tutti per l'attenzione lasciate nei commenti la segnalazione di eventuali situazioni interessanti così poi le commenteremo assieme e per il momento buona serata a tutti appuntamento a domani grazie a tutti Grazie.